film molto attesi serie molto attese addirittura i doppiatori vedono solo la bocca in alcuni casi se non proprio sfocato per evitare lo spoiler perché c'è quest'ansia da spoiler invece io ho saputo anche di adattatori che erano nelle stesse condizioni però lì veni o male hai un aiuto in più perché senti l'audio, perché puoi intuire un attimino che cosa sta succedendo anche se non vedi proprio tutto hai comunque almeno l'audio dell'attore che in originale ti recita la scena quindi capite che è un po' diverso è un po' diverso, se sei fortunato c'hai tutto, vedi tutto, il massimo che vedi magari una filigrana sopra che ti fa capire che questa roba qua non la devi diffondere perché è top secret la famosa X sopra tutte le cose e quello magari dato che firmi un NDA è il caso che non lo diffondi perché altrimenti si subiranno pene corporali mentali e quindi sificazione in piazza crocifissi salamensa tutti quanti questa cosa pure è un po' assurda scusa se ti ho interrotto vai poi no no vai vai dimmi cioè pure per i doppiatori ascoltavo una cosa che raccontava il doppiatore Spider-Man quando ha fatto Tom Holland in Avengers Infinity War dice che lui non sapeva che cosa stava doppiando in quel momento quando muore Tom Holland no no cioè tutti quanti dicevano lui è l'unico che non sapeva che moriva ma in che senso è comune come è? Infinity War Infinity War Infinity War ah ok vabbè muore dai cioè non muore spoiler dai Valerio dai muore muore dai su no però è vero ma guarda sai cos'è non è che è assurdo allora dipende dai punti di vista perché secondo me siamo nell'era dello spoiler già i tempi si sono accelerati un sacco per quanto riguarda sia il doppiaggio che la traduzione che l'adattamento cioè ci sono dei tempi disumani e con ragione perché perché fino a poco tempo fa c'era la pirateria però si era si aveva meno ansia di correre alle Gio e doppiare oppure adattare prima perché comunque diceva beh il tempo ce l'abbiamo finché arriva in Italia ci mette cioè finché la facciamo arrivare in Italia ci pigliamo non dico il nostro tempo perché i tempi erano comunque stretti però almeno si aveva una settimana in più un mesetto in più adesso invece devi muoverti il prima possibile cioè vi basti pensare che le puntate di Last of Us arrivavano una settimana dopo l'arrivo su Nao in originale perché? perché dovevano avere il tempo di adattare e doppiare ma il problema è che una settimana è veramente un tempo disumano e non a caso hanno fatto uno sciopero anche per questo motivo c'è stato uno sciopero di doppiatori e anche gli adattatori poi se non mi sbaglio i fonici non erano inclusi però gli adattatori sì anzi i fonici sono un'altra categoria di cui sarebbe bello parlare perché sono anche loro il cuore di questo lavoro vero e la cosa allucinante è che per via di questi cioè è aumentato il lavoro però il tempo è sempre quello quindi grazie a Dio si è aggiunti una sorta di accordo a quanto pare e speriamo in bene però effettivamente i tempi sono strettissimi in più il motivo per cui i tempi sono strettissimi è anche questa questione dello spoiler e l'ansia che la gente vada a divulgare puntate online è capitato è capitato e per questo motivo si cerca di tappare dove si può tappare e rendi magari molto complesso il lavoro soprattutto ai doppiatori tra l'altro i doppiatori per i videogiochi hanno un'altra sfiga perché loro non vedono le immagini vedono solo la oddio la diciamo l'onda sonora ah sì doppiare su quell'onda sonora non vedo la settimana scorsa massimo triggiani che diceva quando ho doppiato anche se non sbaglio qualche scena di di horizon si raccontava e c'è una barra che devono rimanere nella barra ma guarda c'è c'è un gioco che io ho fatto un po' di tempo fa ne ho curato l'adattamento con Jacopo Calatroni che è il doppiatore di di spider-man ma nei giochi di Peter Parker ma nei giochi e poi lui ha doppiato qualsiasi cosa a livello di anime eccetera eccetera e lui ha fatto proprio un reel a riguardo dove ti spiega tutto il processo del di doppiaggio cioè io sto leggendo questo testo che è stato tradotto da X adattato da Y e ti faccio vedere cosa succede c'è proprio lui che a leggio ha questa questa onda sonora che deve cercare di coprire ed è allucinante perché poi tu non è che hai il contesto te lo spiega magari il direttore di doppiaggio se può però non ce l'hai infatti se ci fate caso nei videogiochi ci sono magari degli sbalzi di toni che non si capiscono sì cioè perché dice non ne so dice magari aiuto e magari lo sta dicendo in una maniera un po' ironica tipo aiuto così e poi lo senti doppiato aiuto e poi torno a parlare normale eh no perché sai tutto è posto quindi è un po' strana come cosa no